comparativa ssd fra windows 7 e windows 8.1 con windows 7 come vedete totalizzo un punteggio di 515 punti la hci è correttamente settato un attimo vi mostro cosa ottengo con 8.1 con 8.1 sembra andare ancora meglio 609 punti risultati crystal disk ricordiamo il ssd in questione è un kingston v300 da 240 giga questi sono i risultati con windows 7 questi e quelli di windows 8.1 a voi il commento e il giudizio